Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Good morning Italia e buongiorno italiani. Io vi parlo dagli Stati Uniti, come alcuni di voi già sanno, però è bellissimo avere questa tecnologia che ci fa sentire vicini anche se ci sono 8.000 miglia di distanza. Ok, oggi concludiamo con il capitolo 18 del Vangelo di Matteo, leggeremo dal versetto 23 al 35. Il Regno dei Cieli può essere paragonato a un re che decise di aggiornare i suoi conti. Tirate le somme, gli fu portato uno dei suoi debitori che gli doveva circa 10.000 monete d'oro. L'uomo non poteva pagare, così il re ordinò che per saldare il debito fosse venduto lui, la moglie, i suoi figli e tutto ciò che possedeva. Ma l'uomo si gettò in terra davanti al re, il viso nella polvere e implorò, O Signore, abbi pietà e pagherò tutto. Allora il re ebbe compassione di lui, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quando l'uomo lasciò il re andò da un altro che gli doveva una piccola somma, lo afferrò per la gola e gli ingiunse di pagare immediatamente. L'uomo si buttò a terra davanti a lui e lo scongiurò di dargli un po' di tempo. Abbi pazienza e ti pagherò, implorava. Ma l'altro non voglia aspettare, lo fece arrestare e rinchiudere in prigione finché non avesse pagato tutto il debito. Gli amici dell'uomo imprigionato videro queste cose e ne furono molto dispiaciuti. Andarono dal re e gli raccontarono tutto ciò che era accaduto. Allora il re chiamò l'uomo che va perdonato, uomo malvagio. Poco fa ti ho condonato l'enorme debito che avevi, soltanto perché me l'hai chiesto. Non avresti potuto avere pietà di quell'uomo come io ne ho avuto di te. Poi, fuori di sé per la colera, il re consegnò l'uomo agli aguzzini finché non pagò fino all'ultimo centesimo. Così agirà verso di voi mio padre che è in cielo se rifiutate di perdonare di cuore i vostri fratelli e sorelle. Molto probabilmente conoscerai questa storia. È facile avere un senso di sdegno verso quest'uomo al quale è stato perdonato molto. Come può una persona essere così riconoscente? Eppure non ci rendiamo neanche conto che noi siamo quella persona. Il debito era stimato tra i 10 e i 50 milioni di euro.